Se il Raku vuoi capire, un poco devi soffrire! Oh! No, scherzo, era morbida, era morbida. Che cos'è il Raku? Il Raku fondamentalmente è una tecnica di cottura veloce che ci permette in poco più di un'ora di fare una cottura a smalto dei nostri pezzi e estrarli ancora incandescenti dal forno e farli raffreddare o all'aria oppure inserirli in dei bidoni con del materiale combustibile in modo che si sviluppi quella che viene detta la post-riduzione. Dove e quando nasce il Raku? Il Raku nasce in Giappone nel XVI secolo, nell'area di Kyoto. Recenti studi ipotizzano che forse questa tecnica viene portata in Giappone da alcuni ceramisti coreani o cinesi che appunto si trovavano in quel periodo in quella zona. Quando diventa famoso il Raku in Giappone? Sempre, diciamo, a metà del XVI secolo, sotto la guida dell'imperatore del momento, il Raku viene adoperato per la realizzazione delle tazze che si usavano nella cerimonia del tè. Una cerimonia molto importante all'epoca, una cerimonia legata al buddismo zen. Infatti il termine Raku si ipotizza, derivi dall'ideogramma che può significare gioia, contentezza, benessere, felicità. E mica poteva significare solo una cosa, alla fine sono sempre giapponesi. Che tipo di Raku si produceva in Giappone all'inizio? Sono fondamentalmente due tipi di Raku, il Raku rosso e il Raku nero. I pezzi in Raku rosso erano modellati con un'argilla a bassa temperatura e di solito o era un'argilla appunto che aveva dell'ossido di ferro all'interno, oppure si usava un ingobbio ferroso prima di smaltare il pezzo con una cristallina abbastanza chiara. Le creazioni in Raku nero invece venivano modellate con un'argilla per alte temperature, invetriate con uno smalto nero e portate più lentamente verso appunto l'alta temperatura. Sia i pezzi creati in Raku rosso, nello stile Raku rosso, e sia i pezzi creati nello stile Raku nero, una volta arrivati a temperatura venivano estratti ancora incandescenti dal forno e messi a raffreddare all'aria o al massimo in acqua. Quando è che arriva il Raku in occidente? Da prima arriva con Bernard Leach, un ceramista inglese che viaggia in Giappone e riporta in Europa questa tecnica e successivamente negli Stati Uniti, negli anni 40, altri ceramisti iniziano a sperimentare questa tecnica avendola letta dal libro di Leach, ma la figura che diciamo rende il Raku popolare negli Stati Uniti è Paul Soldner e sono appunto i primi sperimentatori negli Stati Uniti che iniziano invece a estrarre pezzi ancora caldi e invece di farli raffreddare all'aria li inseriscono in dei bidoni pieni di materiale infiammabile che poteva essere foglie, carta, paglia e che scoprono che il fumo che si sprigiona dalla combustione crea un ambiente ancora più riducente e quindi si effettua una seconda riduzione e questa seconda riduzione non faceva altro che saltare gli effetti degli ossidi metallici che creavano appunto dei lustri bellissimi. Ma perché i pezzi Raku una volta estratti dal forno ancora incandescenti non esplodono in 4 milioni di pezzi? Beh perché per il Raku si usano delle argille cosiddette semirefrattarie o refrattare cioè argille che hanno al loro interno una percentuale di shamot cioè argilla già cotta e finemente tritata e inserita nell'impasto stesso. Chiaramente la prima cottura a biscotto dei pezzi in argilla Raku viene effettuata lentamente con la solita curva di salita quindi 8-9 ore in genere. Quali smalti possiamo utilizzare per il Raku? Beh se facciamo Raku a bassa temperatura che è quello più comune quindi sui 980-1000 gradi possiamo utilizzare tutti gli smalti che già utilizziamo per fare ceramica a bassa temperatura. La cosa bella è che possiamo sperimentare aggiungendo degli ossidi metallici ai nostri smalti. I più comunemente utilizzati sono l'ossido di rame, il carbonato di rame, l'ossido di ferro, l'ossido di cobalto. Quindi di che cosa abbiamo bisogno per iniziare a fare Raku? Sicuramente abbiamo bisogno di alcune argille Raku, di smalti a bassa temperatura e qualche ossido metallico, dei forni che riescono a raggiungere la temperatura di maturazione dello smalto in poco tempo. Di solito si utilizzano forni a gas ma si possono utilizzare anche forni a legna oppure si può utilizzare anche il fornetto magico per fare Raku nel microonde e vi farò vedere in un altro video come fare. Poi potremmo avere bisogno di alcune altre piccole cose come dei guanti che resistano al calore per estrarre i nostri pezzi, una pinza lunga per estrarre i pezzi dal forno ancora caldo e dei bidoni dove inserire il materiale infiammabile per fare la post-riduzione. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché nelle prossime settimane pubblicherò altri video su Raku sia sulla cottura da fare nei forni tradizionali o nel fornetto magico ma sia anche come costruire un forno a gas in casa. Vedrete che sarà veramente semplice. Come al solito se vi è piaciuto il video mettete un like, condividete e ci vediamo presto con altri video. Buona ceramica! Mia, mia, mia!